Oggi, duniziani, dovremmo giocare a Minecraft senza rompere o picchiare mostri, cioè senza rompere blocchi o picchiare mostri Niente si può fare praticamente con questa modalità, eh? Niente, perché appunto è una nuova, cioè nuova, fra virgolette Poi non so se qualcuno l'ha già portata o meno, però insomma, ho pensato che potrebbe essere una buona idea fare così Allora, qua in mano, nella mia mano magica, vedete una sella e voi direte, ah, dunizia, cosa ti serve la sella? Beh, visto che non possiamo per niente spaccare blocchi, né uccidere mostri, com'è che facciamo a sopravvivere? Ci serve almeno un cavallo, no? Cioè, dico io, almeno un cavallo ci serve E, soprattutto, dovremmo andare a trovare tipo dei villaggi, ok? E secondo me è molto importante questo perché, ovviamente, vediamo un po' quanto salta questo cavallo Mmm, però un pochino lento, se posso dirlo Mmm, non è che mi piaccia molto, ma vabbè Facciamo finta di niente, usiamo questo cavallo e lasciamo Ah, però prima facciamo giusto una cosa, eh Io prima devo salvare le coordinate del posto Perfetto, adesso andiamo a trovare un villaggio perché Secondo me il video può finire quando io trovo, o comunque il video comunque dura circa dieci minuti E quindi ovviamente quando, mmm, troverò un villaggio però sicuramente sarò soddisfatto Altrimenti non sono soddisfatto Eh, pensate voi, però Vabbè, adesso è ancora giorno Ma immaginatevi la notte Dico io, cioè Non è be... Ah, è vero Stavo per dire, ah, uccidiamo queste mucche Eh no, non posso Non posso nemmeno le mucche, nemmeno i maialini Però sicuramente posso ricordarmi che in questa vanilla, eh, c'è la possibilità di trovare molte mucche e cose, diciamo, per i prossimi episodi Perché le ho trovate appunto adesso, quindi non vedo dove sia il problema Ah, però, qua, mmm, non è che vedo molto un continuo, eh, un continuo, ah, forse no, ok, da questa parte, eh, allora, eh, spacchiamo sto blocco Beh, bravo, eh, bravo, madonna, sto facendo un casino, aiuto, perfetto Ok, ce la possiamo fare, io e il mio destrier Dai, cavallo, vola Allora, eh, cavallo, però così fai, fai schifo Quindi adesso ti devo spingere, io non so Dai, cosa sto facendo? Sto spingendo il cavallo dal sedere Porza Vai che non sta facendo niente dalla mattina alla sera, eppure è già stanco E svegliati, su Allora, posso salire su quest'albero? Grazie Cavalluccio Ma porca miseria, no, dai, dai, per favore, dai, su E, mmm, Maria Ver... Eh, vabbè, non posso dire, però, guarda Oh, forza, vai da questa parte e non rompere le scatole Dai, questo... No, basta, questo cavallo io lo banno Slash ban cavallo Si può fare? Forza? Guardate, è scemo, vabbè, comunque Dovremmo trovare un villaggio Sinceramente, però, non so dove sia sto villaggio Mmm, villaggio ci sei o no? Mmm, bella domanda Oppure, oppure forse dovremmo iniziare a trovare Una caverna Eh? Una bella cavernuzzola Bella, bella Che tutti quanti amano Che io in realtà odio, ma vabbè, questo è un altro conto, no? Cioè, ovviamente, i dunisiani No, allora, cioè, le caverne io in realtà le amo Però... A volte anche le odio Tu cosa dici, cavallo? Ti piacciono le caverne? Dice di sì, dice di sì Allora, lui è un avventuriero, no? Eh, sì Eh Perché voi dovete sapere che lui è un avventuriero molto grande E grosso, pure Vabbè, comunque qua non sto trovando un beato cappero di nulla Per non dire qualcos'altro Né villaggi Né caverne Né niente Allora, cavallo Adesso io ti facciamo una chiacchierata Perché non è possibile Non è possibile Ok, non posso nemmeno picchiarti Né spaccare blocchi Però non è possibile che non hai ancora trovato niente È tutta colpa tua? È colpa tua se non troviamo le cose Mica mia, no No Sta Guarda, sto per dargli un pugno Però non voglio Allora, non dobbiamo dare i pugni Perché sennò perdiamo la sfida E non voglio perdere la sfida Io sto morendo di caldo Perché sono tipo una scrofa in calore No, tutta quanta Cosa pensate? Cioè, dico Una scrofa, no? Che è tutta quanta cal Cioè, che è tutta quanta, no? Che è Ah, caldissimo Eh? Strizza la pizza Tu cosa dici? Mmm Capisco Ah Eh, sì Eh Eh, dice Dice Eh, hai ragione Dunis La scrofa in calore sei proprio tu Grazie Grazie mille Eh Però adesso facciamo slash Ban strizza la pizza Ban strizza la pizza Ah, giusto Non ho Non ho i permessi Ops Peccato Brutto schifoso Eh, non ho i permessi perché sono in singola Altrimenti ti avrei bannato Anche Ma poi cosa sto dicendo? Maria Eh, aiuto Dobbiamo stare attenti Perché qua Non lo faccio più Non lo faccio più Dunisiani Dunisiani Che schifo Ho appena rotto un blocco Ops Ops Eh, mi sono leggermente distratto Potremmo aver perso questa sfida Ma sarete voi nei commenti a decidere Se vale Oppure no questa cosa Perché sono stato disattento Perché stavo bannando Strizza la pizza, no? Quindi Eh, dobbiamo stare attenti Però cavallo Hai rotto le No, guarda Non posso dire Però Hai rotto le scatole proprio Per dire Per dirlo in termini più Adequati Ecco Perché Non sono io che ti devo spingere dal sedere Sei tu che mi devi Portare in giro Stupido cavallo Allora Eh Cosa hai Però ormai questo cavallo Comunque è diventato un mio amico Ma sai che forse lui Ma sapete che lui Può diventare strizza la pizza? Cavallo Vuoi essere strizza la pizza? Eh Oh, beh Sì Sì Fa tutto quanto così Sì Certo che vuoi essere Sì Sì Oh, dammi un abbraccione Adunis Dai un abbraccione Oh, che carino Mi sono commosso Con le lacrime Siamo tanto amici Io e lui Abbiamo Vissuto tante avventure Insieme Ok, basta Perché Così però Non è possibile Cioè Piangere va bene Però Stop Insomma Fa una certa Poi dopo si stufa uno E non ha più voglia di piangere Vabbè, comunque Mi spieghiamo come facciamo a sedere Perché tu C'hai un sedere grosso Che non ti muovi Eh? Strizza la pizza a cavallo Com'è che facciamo? Dimmi tu No, perché se tu riesci Io Guardalo qua Che non riesci manco a saltare È una roba incredibile Cioè mi sono preso Proprio il cavallo Proprio Madonna Madonna Dove è caspita Dove è finito? Scusate Eppure Eppure è caduto Ah, Rosaliana Eh, ce l'ho fatta Perfetto Ma io non ho ancora trovato Un Un beato cappero di nulla E beh, scusate Non è che non Può essere così Cioè No Non può essere Cioè Dico No Più che altro Io non voglio Non voglio scendere Da strizza la pizza Perché se no poi dopo lo perdiamo Mi ci sono affezionato così tanto Infatti ho anche pianto Sono tanto triste Comunque Mamma mia che attore Comunque Allora Io qua E non sto trovando niente Quindi mi sto leggermente stufando Strizza la pizza Hai rotto le Scatole Devi trovare immediatamente un villaggio Se no poi dopo qua Io Urlo In Giamaichese antico E non voglio urlare in questa lingua Perché poi dopo Finisce male Eh Sembrano brutte cose Oh mio dio Ma se io vado laggiù Vai Strizza la pizza Crediamo in te Perfetto Vedi È stato bravissimo Cioè io l'ho sempre saputo Che lui È una brava È un bravo cavallo Per dire una brava persona Ma poi mi sono Mi sono reso conto Di quello che stavo dicendo Quindi ho detto No dai Evitiamo di dire Cavolate Eh Eh sa Ha saltato Avete visto che salto incredibile Allora Eh Ecco per Grazie Grazie mille Che riesce a saltare Però il bello Che io ho ancora qua Eh no Strizza la pizza Si sta facendo notte Eh sì Eh Dobbiamo stare attenti Perché se non stiamo attenti Moriamo Sì È proprio così Eh Pensate voi Io sto sentendo Strizza la pizza Cavallo Che mi risponde Invece Il mio amico Qua in persona È proprio qua Riuscite a vederlo No Strizza la pizza In persona È proprio qua Vabbè È molto bravo Come cavallo E anche come persona Anche se a volte Mi fa un po' Innervosire E allora Va bene Allora Direi di fare un taglio Ad andare in un villaggio Tunisiani Durante il percorso È successa una cosa Orribile Abbiamo perso Il nostro Strizza la pizza Perché ho detto No Non si Non si riesce a muovere Quindi L'ho lasciato indietro Perché chi se ne frega Però abbiamo trovato Un villaggio E adesso C'è un gatto Vedete Non abbiamo il pesce Però Mannaggia il gatto Peccato Comunque Andiamo immediatamente A prendere Diciamo Signore Lei è proprio antipatico Andiamo a prendere Le provviste Di questo villaggio Stando molto Molto attenti A non morire Dai monster Perché ovviamente Cosa ve lo dico a fare Non possiamo nemmeno Non possiamo nemmeno Diciamo Dormire No Infatti è tutto buio È bello Bello no Youtube così Tutto buio Vi metto la night vision Ok Ora è notte È notte Ma vedete comunque Pensate voi È bello no È sì Porca miseria Allora Abbiamo Però stavo per dire Abbiamo trovato Queste cose bellissime Anche buonissime Ma non possiamo Non possiamo prenderle Perché non possiamo Spaccare blocchi E non possiamo Nemmeno picchiare Ecco vedete Vedete Io ho già l'istinto Di combattere Contro i mostri Cercare di ucciderli Ma non possiamo farlo Perché se Lo facciamo Perdiamo la sfida E no Però No Qua si sta facendo Completamente complicata La situa Però Porca miseria Non ce l'ho fatto Ovviamente No Però Sicuramente qua Troveremo Delle risorse Adeguate Alle nostre Esigenze Materiali Scusate Scusate per il colpo All'orecchio Non volevo farlo Non lo farò mai più Non è vera questa cosa Secondo me lo farò Altre volte però Qua è successa Tutta una situazione Amorosa Fra i due Signori E no Troppo tardi ormai Ho scoperto I vostri No Le vostre E vedi Vedi che fa tutto Cosino con la testa Vedi Vedi che C'è stata Tutta una situazione No qua Molto Molto Insomma Privata No Lasciamogli Privacy Perché No giustamente Le persone No cioè Eh Vabbè Insomma Siamo capiti Che brutta scena Comunque Che mi sto Che mi si sta formando Nella mente Molto brutta E anche ansiogena Comunque Perché immagina Vabbè Lasciam perdere Ad ogni Immaginatevi trovare Un villager Così Durante la notte Tipo Questo è il bimbo Villager E questo è il molestatore E volevo dire Andiamo Qua La cosa La cosa sta Degenerando Completamente Quindi Quindi Cerca Oh Però Non sto trovando Niente Praticamente Porca miseria Questa sfida È un Un completo Disastro È un Non abbiamo trovato Niente Abbiamo perso Strizza la pizza Nostro amico Anche se ne troveremo Sicuramente un altro Perché a casa ce ne sono Altre 30.000 Cose Vabbè Avete capito Qua Non so se Ah Certo Questo è nuovo Una nuova casa Ok Perfetto Ho fatto bene Ho fatto bene Sì Perché sto prendendo I sapling Che sarebbero Gli alberelli piccolini E non lo so La sembra ci sia una piattaforma Sospesa in aria Ma non è così E quindi però Direi che In realtà per questo video Possa essere tutto Dunisiani Questa sfida Abbiamo trovato Il villaggio Anche se è stata un po' strana Come sfida Fatemi sapere Se volete vedere Altre sfide così Nei commenti Le sfide del vanilla Sono molto belle Secondo me Molto magiche Molto simpatiche Molto Tutto è così Vedete tutto quanto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Commentate Con Scatola Nei commenti La scatola Proprio così Ciao Dunisiani